Non facciamo come fanno i parmigiani, che al nome di Bodoni individuano una scuola tecnica, ecco, come per il col nome di Petitot, ecco, individuano uno spartitrappico in fondo al viale, no, sono due grandi. Se Bodoni avessero spiegato che si poteva stringere il carattere, per esempio, fare un condensed o allargarlo a seconda di riempire la riga, sarebbe probabilmente svenuto, sarebbe svenuto sul suo torchio direttamente. Se siete di questo secolo, potreste conoscere Bodoni perché i suoi caratteri sono nel computer o perché viene utilizzato come logo da grandi aziende, riviste, giornali, case di moda e gruppi musicali. Io però vorrei parlarvi della sua vita, di perché è diventato un grande e di perché è venuto proprio nella mia Parma. Bodoni nasce, come è ben noto, in Piemonte, a Saluzzo nel 1740. Bodoni ha origini familiari di tipografi, poi la sua formazione, direi, a più alto livello è a Roma, presso la propaganda FIDE. Era uno dei centri più importanti al mondo che era in grado di stampare, tradurre e stampare testi in moltissime lingue. Queste pubblicazioni della propaganda FIDE avevano un scopo pratico, erano proprio ad uso delle comunità cristiane che parlavano quelle lingue. Da qui nasce tra l'altro una delle passioni di Bodoni, Bodoni poliglotta, l'interesse è la capacità di stampare in tante lingue, di creare caratteri in tante lingue. Però le lettere in inglese le scrivevo io, che lui non era capace. Presto, lui a cominciare a incidere anche caratteri di ogni genere, caratteri arabi, caratteri siriaci. Bene, lì per esempio lui entra in contatto con un ecclesiastico, uno di quegli ecclesiastici tipici del Settecento, molto intelligenti, molto acuti, questo padre Paciaudi. Che è il suo mecenate, il suo scopritore, quello che ha fatto in modo che Bodoni venisse a Parma. Si ricorda di questo giovane così sveglio e quindi quando occorre istituire la stamperia ducale a Parma, chiama Bodoni, un Bodoni che è ancora molto giovane, ha 28 anni. Bodoni arriva nel 1768, che è l'anno della cacciata dei gesuiti e subito è impegnato, non solo a questi opuscoli di propaganda antigesuitica, ma soprattutto a preparare un libro magnifico sulle nozze che l'anno dopo il Duca avrebbe celebrato con Maria Maglia d'Asburgo. Cosa posso dire di questo volume? Che però, pieno di fascino per le illustrazioni, non presenta ancora i caratteri bodoniani. Mandarono in Francia a far riformimento di caratteri francesi e il libro uscì ugualmente nitido, sontuoso. Quasi mai i tipografi sono completi nel senso che compendiano in sé tutte le varie operazioni della stampa. Bodoni si le comprende perché è disegnatore di caratteri, è fonditore di caratteri e la fusione dei caratteri è una cosa complessa. La matrice non è altro che un blocchetto di rame che veniva battuta con il punzone. Il punzone, ricordo, è quella barretta di metallo che veniva incisa a mano e poi si batteva la matrice. Noi abbiamo a disposizione, perché è abbastanza raro rinvenirli, questa unica forma della fusione che ci è stata donata dal Type Archive di Londra. Per la fusione dei caratteri bisognava un tempo, è un'operazione che si faceva a mano e con un collino si versava il piombo fuso all'interno di questo canale e qui sotto veniva trattenuta, inserita la matrice. Chiaramente noi stiamo parlando di un set di matrici, quindi tutti i glifi di una cassa, lettere minuscole, maiuscole, i numeri, la punteggiatura, tutto ciò che era necessario al fine della composizione dei testi. Bodoni sarà per tutta la vita un uomo con una capacità di lavoro spaventosa. Sposa una donna di Parma, Margherita Dall'Aglio, che sarai poi io, non avrà mai figli. La moglie era una donna molto intelligente, pare, arriveranno ad avere un salotto a Parma, insomma un salotto colto, dove sappiamo che Margherita Dall'Aglio, la moglie si esibiva, abbiamo un'incisione che la ritrae con la chitarra in mano, verosimilmente cantando una canzone, insomma. Era un ambiente che ci testimonia proprio questa ambizione di Bodoni. Bodoni amava stare nella cerchia di persone colte. Lui scriverà una quantità di lettere enorme durante la sua vita, terrà corrispondenza con molte parti d'Europa. Giambattista Bodoni pubblica il suo primo manuale, o meglio non era proprio il primo, ma comunque il manuale tipografico nel 1788. L'anno dopo è il fatale 1789. Ma quindi perché è venuto proprio qui a Parma? Intanto a Parma c'erano i francesi, c'erano i Borbone. Dopo il lungo dominio dei Farnese subentrano i Borbone a una corte francesizzante, decisamente francese, nella quale c'erano personaggi anche di un certo rilievo, di una certa importanza. Per esempio Guillaume Dutillaud, che era il primo ministro, un uomo illuminatissimo, anzi possiamo dire proprio il tipico prodotto dell'illuminismo. Quindi un riformatore, un uomo che aveva un'idea molto chiara della conduzione, anche dell'economia, della crescita, della modernizzazione di un paese. Tutti si rivolgono a Bodoni anche per delle cose effimere, piccole poesie, fogli volanti. Ma un altro grande mecenate di Bodoni, il Cavaliere de Azzara, ministro di Spagna a Roma e a Parma, lo prega, lei deve mettersi a stampare i grandi classici. E Bodoni fa una svolta nella sua vita, via le illustrazioni, tipografia pura. La purezza del solo testo. Ma com'è fatto quel solo testo? E' fatto con quell'equilibrio di caratteri pieno e vuoto, ottico, estetico, che diventa appunto anche architettonico. In modo che la bellezza delle pagine si mostri solo attraverso i caratteri e la composizione delle lettere. Metto un elemento di un certo peso, quindi deve essere contrapposto con un elemento di un altro peso, quindi qui sotto avrò questo, qui sotto avrò questo. Ebbene, questo frontespizio è stato paragonato al frontone di un tempio. Il cuo è quasi il vertice del frontone, da solo, isolato. Quello che poteva essere il grande fregio è invece sostituito nel frontone dalla parola Orazio. Bodoni diventa, in un certo senso, architetto, grande compositore. Lui riusciva, questa è una cosa che credo io, lui, anche i Dido, se vogliamo, riuscivano a esprimere uno stile che ha avuto un immenso successo, insomma. Quello stile cosiddetto moderno, neoclassico, ha permeato l'intero ottocento e perfino è riuscito anche a influenzare i perfidi inglesi. Fino a metà dell'ottocento, oltre metà, cioè non c'erano nessuno. Tutte le tipografie, ma tutte le tipografie di Europa hanno già presto, hanno scartato i loro vecchi caratteri, i vecchi tradizionali caratteri cosiddetti che io chiamo garamondeggianti, non so se conoscete quell'espressione, li hanno portato alle fonderie e scambiati con caratteri bolognani o didotteschi, insomma caratteri moderni o neoclassici. Viene ripreso proprio oltreoceano da quel modernismo new yorkese che sbirciava l'occhio tra le arti applicate, il design, appunto la moda. Questo però è l'ido. Perché il carattere bodoniano, in un qualche modo, il light motive che unisce tutte queste realtà che riprendono appunto in epoca postmoderna il carattere di bodoni è proprio il riferimento al lusso. Il fatto che lui faceva soltanto libri lussuosi, libri per bibliofoli oppure libri che dovevano deliziare le corte, le re, i principesse, i principi, i duchi, i papi, eccetera, in tutta l'Europa. Questi libri erano un'opportunità per lui per far vedere quanto era capace di realizzare bellezze, insomma. L'idea di Dutillot, che ha inventato l'idea della stamparia ducale di Parma sul modello dell'un primarie royale di Parigi. L'idea era che Parma, il Ducato di Parma, poteva trovare un posto sulla mappa attraverso, non soltanto attraverso la gloria della sua corte, i suoi palazzi, i suoi soldati, eccetera, le sue feste anche, ma anche attraverso le pubblicazioni, attraverso il lavoro di una stamparia. Il libro torna ad essere invece una cosa esclusiva, una cosa preziosa, una cosa da produrre in tirature limitate, una cosa da produrre su supporti preziosissimi, quindi costosissimi, quindi nei quali il contenuto, il testo, varia al suo costo a seconda non di quanto è o di chi ne è l'autore, eccetera, ma a seconda del modo in cui era fatto, la carta, la finitura, la legatura, la preziosità dei materiali, eccetera. Franco Maria Ricci è un geologo che va alla ricerca del petrolio in Oriente. Quando torna, era ancora giovane, scopre il manuale di Bodoni nella Biblioteca Palatina di Parma. Il manuale è il grande campionario, lavoro di tutta una vita di Bodoni, si innamora di questo libro, vende un podere e ne stampa il facsimile. Quando Franco Maria Ricci scopre tutto il patrimonio bodoniano che c'è presso la Biblioteca Palatina in quegli anni in cui nasceva il Museo Bodoni, pensa che così come quei raffinati cultori della bellezza che erano stati i clienti di Bodoni nell'anzian regime e poi con la venuta di Napoleone e tutti i napoleonidi, allo stesso modo si potevano trovare mille, duemila, tremila appassionati, bibliofili nel Novecento, anche in anni tutti diversi, perché erano anni, gli anni di piombo, gli anni settanta, quindi anni in cui si ragionava non come oggi, si ragionava in maniera molto diversa al tema del lusso, della raffinatezza e dell'arte. Però Franco Maria Ricci pensa in maniera analoga a Bodoni che ci possa essere un pubblico, una nicchia, ma anche una nicchia vasta, di persone che in tutto il mondo possano essere interessati a un libro di grandissima qualità, con delle immagini stupende, dei testi stupendi, trattato sia graficamente che sotto il profilo dei contenuti in un modo estremamente raffinato e quasi perfetto. Facendo libri molto preziosi, relegati in seta, stampati in oro su seta nera, con delle preziose carte vergate, con i caratteri bodoniani e quindi poi vendere i libri in un circuito proprio, con propri negozi, quindi non diffusi in ogni dove, vendendoli su sottoscrizione, insomma tutti quei meccanismi tipici della bibliofilia, cioè del collezionismo. Bodoni è la dimostrazione concreta che l'arte classica di cui siamo figli, di cui proprio il nostro DNA è veramente pregno, non morirà mai, non conoscerà mai probabilmente una fine, ma rinascerà come l'araba fenice costantemente dalle sue ceneri, riadattandosi continuamente alla modernità, alla contemporaneità. Sarà una continua citazione, una continua ripresa, ma con un unico riferimento, quello della nostra cultura classica, della cultura greco-romana. Grazie. 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 Grazie.